buonasera ben ritrovati possiamo andare in fiera tranquillamente con la mascherina magari guanti ma la fiera si tiene questa è una bella notizia quindi benvenuti nei viali andate a divertirvi io però vorrei parlare della fiera partendo dalla politica come ogni anno alla fiera dellevanti si parlerà di mezzogiorno lo farà il presidente conte lo faranno tanti altri allora pensiamoci un attimo il mezzogiorno d'italia è ancora in un punto morto anzi negli ultimi 30 anni siamo andati indietro parlo per esempio della ricchezza personale di ciascuno di noi abbiamo perso mentre i tedeschi dell'est che spesso vengono accomunati a noi si arricchivano anche se non hanno raggiunto i livelli di quelli dell'ovest noi ci siamo impoveriti e quando dico noi parliamo del sud ora perché ciò è accaduto innanzitutto perché la germania ha creduto moltissimo nella sua unità e ci ha investito molti soldi vi dico solo una cifra 2000 miliardi fra il 91 e il 2011 non che noi non ci abbiamo messo i soldi molti di meno perché nello stesso periodo di tempo ne abbiamo messi 600 ok sono pochi rispetto ai tedeschi ma li abbiamo messi che cos'è che non va allora perché il mezzogiorno d'italia è ancora considerato il suddissistan come è stato chiamato qualche giorno fa da alcuni imprenditori del nord cioè ancora un paese arretrato perché innanzitutto abbiamo una grande un grande problema di legalità lo sapete ogni volta che si arrivano dei soldi nel mezzogiorno è quasi certo che vanno a finire pure nelle tasche e nei meandri della criminalità e della mafia e poi secondo me c'è un altro problema i tedeschi ci hanno creduto fortemente nella unità del loro paese io credo che se si volesse il problema della legalità e della criminalità sicuramente potrebbe essere risolto quindi io credo più nel fatto che nessuno ha creduto fortemente nell'unità del nostro paese più che nelle questioni particolari tipo criminalità eccetera non so come cosa ne pensate voi io mi sono fatta questa idea vi ringrazio moltissimo e ci vediamo lunedì ciao ciao